scopri di che fuori fa freddo beh, ti è piaciuto? è fatto bene bene? la trama non sta né in cielo né in terra però siccome è piena di sbudellamenti, erantoli e sbavate di sangue la gente se la fa sotto e ci gode guarda, se avessi io l'appalto delle autostrade farei pagare il biglietto per vedere i fessi spappolati negli incidenti si sarebbe raccolto da Milano a Roma ma lo sai che cosa incassano queste troiate di film? con quattro morti azzurri e pomodoro? fior di miliardi, pensate? tutti i soldi che gli portiamo noi altri coglioni che giriamo con le pezze al culo oh santo cielo cosa dice? ma le pare questo il modo di parlare a un ragazzo io a mio figlio gli parlo come mi pare e gli insegno a dire pane al pane e culo al culo e a conoscere la vita ma quella vera, ma senza balle, biancaneve e capucetto rosso e così sarà abbastanza duro da farsi strada a calci in bocca come fanno tutti gli altri e non si ritroverà vecchio solo rincoglionito a passare il pomeriggio nei pidocchietti di terza visione e l'assassino nel film è il dottore con la barba to!